Seconda vittoria e punteggio piano in classifica per l'Amen Scuola Baschettarezzo impegnata sulla parquet della Meloghia Livorno per la seconda giornata del campionato di Serie C. La SBA aveva superato nel primo turno la Fides Montevarchi, mentre Meloghia era stata sconfitta solo nel finale a Prato da una delle favorite del girone. La formazione livornese ha vinto nella scorsa stagione la Serie D e per il salto di categoria ha inserito nel proprio roster due pezzi da 90 come Nicolai e Melosi, protagonisti assoluti con la maglia della Labronica nella scorsa stagione dove hanno trascinato i gialloneri ad un passo dalla promozione. Per Niamaganto dunque era una partita molto stimolante contro un valido avversario. Coach Delia poteva contare su tutta la cosa a propria disposizione e la gara non ha certo deluso, punto su punto è combattutissima, tanto che già l'intervallo lungo il punteggio era 45-35 per Livorno. La SBA ha saputo compiere una grande rimonta soprattutto nell'ultimo quarto spuntandola per un punto 76-75. Testa della classifica è sabato prossimo a Quarrata, seconda trasferta consecutiva in casa del Consorzio Servizi.